ti ho fatto aspettare qualche minutino aspettiamo un attimino che si colleghi qualcuno innanzitutto spero che stiate tutti bene non porto gli occhiali perché sono diventato improvvisamente cieco ma semplicemente perché l'ultima volta durante la live mi ha schizzato l'attacca nell'occhio quindi per questo motivo non riesco mettermi una protezione che possa impedire alla mia vista di rovinarsi ulteriormente visto che non è la prima volta che accade che mi schizzi l'attacca nell'occhio buona terra a tutti quanti ciao marco ciao damiano allora vedo che stiamo aumentando gradualmente allora premesso che è una serata di costruzione voglio un po parlare ciao mirko voglio un po parlare anche di questo inizio di stagione che sta arrivando so che molte regioni hanno scaglionato l'apertura ciao a tutti scusate non rispondo a tutti quanti ma un abbraccio virtuale a tutti hanno scaglionato un po l'apertura motivo per il quale non per tutti combacerà con dopo domani di fatto l'apertura della pesca ciao fabio non non come si dice non disperate però perché comunque arriverà per tutti quanti ho visto bene o male se ci sono le regioni che avranno fra un mese ma buonasera matteo avranno fra un mese va bene o male ciao daniele comunque siamo tutti sulla dirittura di arrivo buonasera gilberto diciamo che in questo momento storico poter avere la mente occupata anche solo dal fatto stesso di poter andare a pesca ciao mirko ciao remo mentalmente ciao luca poter avere la mentalità di poter andare a pesca potersi ciao lino a liberare un po a pesca ciao luca scusate che saluto tutti quanti però giustamente state qui voglio salutare il più possibile tutti quanti ciao beniamino quindi questo mio live come l'avevo promesso nell'ultimo live che avevo fatto relativamente alla pesca in mosca in lago è un live dedicato all'apertura della pesca e all'inizio della stagione per questo motivo voglio parlarvi proprio di ninfa so che sta crescendo la tribù degli amanti mi dispiace che vedo che fa fuoco non fuoco il monitor però non non modo di bloccare il fuoco però tanto dopo giro un po almeno smanetto meglio è guarda andrea perché l'ultima volta abbiamo avuto dei problemi con la diretta dicevo anche se la tribù sta aumentando so che molti sono ancora radicati al discorso secca non secca ninfa non ninfa che non sto qui a parlarne però diciamo che viste le condizioni che si prospettano da qui a prossime settimane con temperature che sono aumentate questo vuol dire neve che finirà su molti corsi d'acqua indipendentemente dal fatto che siate al nord o al sud dell'italia sicuramente troverete una condizione abbastanza complicata soprattutto per la pesca secca non che non sarà possibile pescare a secca ma sicuramente i fiumi saranno con temperature molto fredde acqua probabilmente velata e questo renderà molto più complicata buonasera per angelo buonasera giusue diventerà molto più complicata la pesca in superficie motivo per il quale una delle migliori soluzioni può essere quella di ricorrere alla pesca con la ninfa qui alle mie spalle vedete già la mia fly patch fly box questa qui che utilizzo sempre che è già bella piena di ninfa visto che durante la stagione invernale ho costruito ninfe e secche vado a parlarvi proprio di ninfe ha fatto aumentare un po le persone che ho fatto un'introduzione vado a farvi dei dressing che parleranno di ninfe vi dico innanzitutto due cose la prima vi invito a restare collegati durante la diretta fino alla fine ciao roberto perché durante la diretta io darò un codice sconto che è collegato alla diretta di questa sera con questo codice sconto lo rivederò più avanti nella diretta voi potrete andare sul sito www.techstream.it e avere il 15 per cento di sconto direttamente nel carrello sui prodotti a marchio tech stream e fasna solo su queste due tipologie prodotti marchio tech stream e marchio fasna quando li metterete nel carrello con questo sconto verrà automaticamente applicato al prezzo del prodotto stesso con questo marchio attenzione perché questa offerta è valida fino alle 24 di domenica sera quindi da quando finisce questa diretta fino alle 24 di domenica sera non siete costretti a prendere eventualmente i prodotti che ciò io qui che faccio vedere questa sera con i quali costruisco basta che siano prodotti a marchio tech stream e a marchio fasna 15 per cento di sconto per il codice che mostrerò durante la diretta non lo scriverò durante alla fine della diretta sulla descrizione del video così vi dovete guardare la diretta altrimenti uno viene guarda direttamente la descrizione e niente la condizione sine qua non per poter usufruire di questo sconto è che siate iscritti al canale youtube questa è una cosa importante detto questo ve lo ripeterò a fine video le modalità di utilizzo ma le modalità di utilizzo ve le dirò anche qui sotto nella descrizione le modalità si non il codice detto questo discorso qui voglio proprio parlarvi di ninfe da pesca vi faccio una premessa abbiamo anche il grande paolo dalla svezia ciao paolo vi faccio una premessa trattandosi di condizioni come vi ho detto in apertura abbastanza complicate visto che l'acqua sarà fredda e velata vanno adattate le ninfe a questa condizione di acqua per cui in queste condizioni io preferisco utilizzare mediamente ninfe un po più grandi quindi visto che siamo inizio stagione gli insetti sono spesso anche un po più grandi cialdario e ninfe soprattutto in caso di acqua velata ciao paolo con uno spot abbastanza acceso testine arancioni eccetera non vi aspettate ninfe che siano dei meravigliosi esempi del flight time italiano nel senso stretto del termine quindi super imitative ma sono ninfe che uniscono un buon profilo imitativo a un richiamo importante per i pesci detto questo vado a farvi vedere la prima delle ninfe che voglio mostrarvi ovvero quella dedicata alla costruzione con una testina buonasera mario con una ninfa realizzata con una testina che ultimamente stanno utilizzando in parecchi e che ultimamente sto valorizzando moltissimo perché sono molto molto comode che sono le testine offset o gig off chiamatele come vi pare a voi sono delle testine tungsterno adesso andate a vedere spero che la qualità sia sufficiente per farvi vedere correttamente tutto quanto qual è il vantaggio di queste testine offset e gig off come l'avete visto già in altri video miei vi fanno lavorare in assetto contrario gig off gigando praticamente qualunque tipologia di ninfa e giro la telecamera e passiamo al morsetto ecco spero che si veda abbastanza bene io comunque vi continuo a leggere con interesse un attimo che sistemo la questione non posso avvicinarlo tantissimo perché se lo avvicino troppo poi non riesco a costruire allora vediamo un po dovrebbe essere a posto la questione dovete un po fuori fuoco aspettate un attimo cerco di sistemarlo vediamo un po se riesco a mettere a fuoco sul morsetto probabilmente più di così non riesco va bene proviamo così poi magari strada facendo ci correggiamo con la questione ok vediamo un po se facendo così vedete adesso sì adesso ci siamo eccolo qua ok perfetto andrà fuori fuoco ogni tanto perché purtroppo non possiamo bloccare il fuoco qui come prevede il telefonino normalmente però sarà la sua cosa corretta allora troverete nella descrizione troverete nella descrizione il dressing completo ciao paolo il dressing completo di ogni mosca che vi faccio vedere stasera quindi non vi preoccupate di prendere appunti sul quello che sto facendo perché nella descrizione del video metterò il dressing completo quindi state molto tranquilli e godetevi la serata già sono pronti come termine il video metterò la descrizione delle mosche allora cominciamo col dire che l'amo che vado a utilizzare è un fasna un fasna f310 qual è la caratteristica di questo amo essere dritto eccolo qui si tratta come vedete di un amo dritto amiche in realtà non sono più tanto utilizzati per la realizzazione della linfa in realtà a me piace piacciono molto cosa vado a mettere cosa vado a mettere le offset beads come vedete se avete qualunque problema di visualizzazione eccetera ditemelo scrivetemelo come vedete queste testine sono con un foro decentrato questo autorizza permette alla ninfa di lavorare sotto sopra anche se l'amo non è strettamente jig ora vi faccio vedere di cosa stiamo parlando se riuscissi a prendere la testina eccola qua praticamente prendo l'amo dritto in questo caso la testina che è disassata presenta una doppia cerco di farvela vedere una doppia scanalatura diversa vedete questa è più svasata si capisce abbastanza bene questa invece è più dritta motivo per il quale questa più dritta la vado a mettere in battuta sull'occhiello quindi la inflerò dalla parte di quella più dritta vedete cosa succede quando io ho messo questa cosa qui l'amo adesso lo metto su un morsetto così lo vedete correttamente l'amo mi andrà a lavorare esattamente in questa posizione qui eccolo qui vedete andrà a lavorare se si fermasse la messa a fuoco ok andrà a lavorare sotto sopra adesso ovviamente io lo devo portare sotto sopra per sto cercando di levare i commenti perché mi sono messi i commenti davanti un attimino chat dal vivo messaggi principali vabbè dicevo lavora sotto sopra in questa maniera qua ora ovviamente qua c'è un pelo di troppo devo far sì che la testina venga fermata in questa posizione qui per fare questo lavoro qui andrò a mettere sul retro della testina un pezzettino di piombo che appesantirà ulteriormente l'anni fa questo lavoro qua posso farlo tranquillamente anche così non esagerate con la quantità di piombo altrimenti rischiereste di quindi come un polifeno di polifeno esattamente il concetto è esattamente lo stesso bravo anziché fare prolunghe varie eccetera su fili e spilli come veniva fatto dal buon francesco adesso faremo questo lavoro qui vedete io ho messo un pezzettino di piombo la vado a bloccare al contrario così vedete e vado a rimuovere vedete un po' in difficoltà purtroppo perché tra me e il morsetto ho la telecamera quindi in questo caso il cellulare quindi sono costretto a essere un po' impedito nei movimenti quindi vado a fermarla questo non è un problema se non si ferma perché andrò comunque a fermarla con il filo di montaggio ok filo che vado a utilizzare è il nuovo power thread micro 25 denari di textreme praticamente il filo ormai utilizzo di più è nero in questo caso qui lo vado a fermare qui dietro rimuovo l'eccedenza a questo punto non devo fare altro che spingere questo piombo in battuta contro la testina per far sì che la testina venga fermata così altrimenti poi rischio che andrebbe a ruotare ci vorrà un po' continuerà a fare le bizze ogni tanto la testina purtroppo qui a differenza dei video che vedete normalmente ogni venerdì non ho modo di accelerare il passaggio quindi dovrete avere pazienza ok una volta che ho fatto questo lavoro qui che tanto lascia il tempo che trova perché comunque sia serve solamente per bloccare la testina e aumentare leggermente il peso andrò indietro con il filo di montaggio nella parte posteriore vado a realizzare quella che è la coda dell'artificiale con un materiale che è molto morbido che io uso parecchio che è la gallina in questo caso vado a prendere queste fibre dalla piuma della gallina senza esagerare con la quantità ma senza essere troppo tirchio e le vado a mettere qui ecco qui come vedete io parto diagonalmente rispetto a la posizione in cui le vado a fissare così quando vado a girare si mettono dritte fermo la questione così come vedete non la taglio tutta quanta perché vado a sfruttare poi la gallina per il riempimento del corpo sotto mi aiuterà nel riempire meglio ora quello che devo fare è cercare di eliminare ogni forma di scalino presente dovuto al piombo in maniera tale che quando andrò poi a mettere il resto dei materiali avrò un corpo più filiforme perché se è vero che da un lato non è fondamentale la limitatività da ninfa è pur vero che quello che guardano i pesci fondamentalmente poi è la sagoma e se la sagoma non è perfetta nel dubbio non la prendano sotto corpo che vado a realizzare con il pearl tinsel pearl tinsel questo colore qui attenzione sto parlando di un sottocorpo quindi non del corpo vero e proprio dell'artificiale ma di quello che andrà sotto al materiale che vado a mettere nella parte superiore quindi prendo un pezzettino di pearl tinsel eccolo qui e lo vado a posizionare esattamente qui e lo fermo dopodiché vado a mettere quello che sarà il vero e proprio corpo della ninfa ovvero il synthetic biot sempre ed extreme in questo caso è color pink il synthetic biot ha questa caratteristica di essere già sagomato a profilo adesso io prendo uno spillo ve lo faccio vedere e avere un angolo trasparente eccolo qui vedete un materiale che utilizzeremo anche in un altro artificiale questa sera eccolo qui vedete a questo lato trasparente motivo per il quale io ho scelto di realizzare un sottocorpo con un materiale perlescente come il pearl tinsel un lato del synthetic biot è nero mi darà l'anellatura l'altro è invece trasparente se riuscissi a farvelo vedere correttamente maledizione al telefono ciao Remo questo qui lo vado a fissare non troppo in punta lo fisso perché altrimenti i primi giri sarebbero completamente neri perché è molto stretto lo fisso qui e cerco di dargli già la posizione che gli andrò poi a far assumere quando lo avvolgerò dopodiché il resto lo copro sempre per sfruttare il riempimento che mi dà come vedete sto gradualmente annullando lo scalino che c'è con il piombo rimuovo l'eccedenza a questo punto prendo il pearl tinsel e lo comincio ad avvolgere lo potete avvolgere anche girando il morsetto su se stesso operazione che è molto più facile di come la sto facendo io ma io con questa telecamera e mezzo anche se ci sono abituato la prossima volta solo secca promesso la prossima volta faremo una diretta solamente sulle secche non c'è nessun problema tanto io tolto inizio stagione quando sono veramente obbligato quasi a pescare solo a ninfa sono un profondo amante della secca quindi non c'è nessun problema e che sulle ninfe a volte si può lavorare un po' più di fantasia quindi copro come vedete tutto il sottocorpo con il pearl tinsel e lo fermo questa maniera qui ecco qui dopodiché rimuovo l'eccedenza non vi preoccupate se poi il dettaglio non sarà altissimo quando la vedrete tanto poi posterò il macro delle foto a questo punto il synthetic biot è adesivo quindi mi aiuta da questo punto di vista non ha bisogno di essere nemmeno rinforzato comincio ad avvolgerlo mantenendo ovviamente la parte scura dietro e cercando di non sovrapporlo altrimenti annullerei l'effetto dell'anellatura affiancando le spire opla aspetta leggo dopo un attimino ecco qui e lo vado a fermare e rimuovo aspetta che cerco di rileggere quello che mi avevi scritto non leggo più mi sono spariti i commenti un attimino chat dal vivo eccolo qua allora scusa capo perché dovrei scegliere la pallina che fa lavorare la ninfa al contrario quali sono i vantaggi allora la pallina che fa lavorare la ninfa al contrario è sicuramente un effetto jig dell'artificiale ma una cosa che sottovalutano quindi tendenzialmente tocca di meno il fondale quando ruzzola in realtà il vero vantaggio del jig e che fa mettere l'amo sotto sopra questa è una cosa che molti sottovalutano e che è più facile che si pianti nella parte superiore del pesce che generalmente è la parte in cui il pesce è più resistente e si perde di meno motivo per il quale io preferisco gli ami jig o comunque che hanno una posizione jig quindi sia per il fatto che tendono a spuntarsi di meno sul fondale lavorando sotto sopra non dico a incagliare perché è un problema relativo ma soprattutto anche perché lavorando di fatto in questa posizione qui la ninfa si pianta meglio nella parte superiore del parato boccale del pesce che è molto più resistente e tende il pesce a farlo sottamare di meno questo è il concetto ok spero di aver esaurito la tua curiosità come vedete io ho fermato tutto quanto prego adesso in realtà la ninfa è molto semplice perché io vado a prendere un po' di cap dubbing se provassi il colore che devo trovare eccolo qui vado a mettere un po' di cap dubbing questo colore qui questo qui che non si vede ma è in tono con l'artificiale cosa faccio allora essendo un 25 denari questo filo qui potrei tranquillamente doppiarlo e ottenere lo spessore di un 50 ma perché farlo quando il power thread si apre meravigliosamente bene rispetto a tanti altri fili motivo per il quale lo adoro a questo punto non vado a fare altro che splittare il mio power thread così piantare lo spilletto esattamente nella metà eccolo qui vedete ho aperto praticamente un 12 denari e mezzo quindi praticamente è un filo sottilissimo ma resistente che mi consentirà di fare un dubbing in asola piuttosto che doppiare il filo metto un po' di cera prendo un po' di cap dubbing in questo caso non ho preso anche troppo e lo vado a mettere qui dentro così meglio metterne un filino di più e poi eventualmente toglierlo quando si lavora in asola eccolo qua vedete ho fatto questo lavoro qui vedete dirlo nel dito sto tenendo il dito per allargare l'asola lascio e ho praticamente intrappolato il filo per evitare che in questo caso questo tipo di dubbing se io girassi il bobinatore non schizzerebbe via perché è un dubbing abbastanza fitto però è meglio sempre tenere perché questo colore ma perché in realtà è un colore che va molto bene con questa tipologia di acqua sono i colori che preferisco quando c'è un po' di acqua velata o acqua un po' di neve ecco qui sono questi i colori che preferiscono viola il blu questi qua su questo tipo di acqua vanno molto bene tengo ripeto una cosa che dico sempre che stasera non ho detto le misure i colori poi potete adeguarle le vostre condizioni di acqua è difficile dare una ninfa e un colore per tutti i corsi d'acqua italiani ovviamente allora prendo il bobinatore che in questo caso non riesco a inquadrare tutto quanto lo faccio twistare ma vedete che io tengo con le dita qui per non far scivolare via tutto quanto dopodiché se io allento e porto giù comincerà a girare anche il mio dubbing vedete sta girando perché si carica di torsioni a questo punto che l'ho fatto girare piano piano posso lasciarlo un po' più velocemente il povertato mi garantisce una buona riserva di energia non ho problemi di torsione di rottura lo giro eccolo qui e poi vado a fare questo lavoro qui vedete tolgo qualche fibra di troppo e lo vado ad avvolgere voi direte per quale motivo devo metterlo in asola e per quale motivo non dovrei metterlo vedete dovrei metterlo in asola e non con il cosiddetto dubbing diretto perché è un dubbing che rimane più vaporoso semplicemente per questo a questo punto fatto questo lavoro qui prendo il filo di montaggio con il power thread non devo nemmeno aspettare che si sciolga buonasera non devo aspettare nemmeno che si sciolga il filo se ricordate in qualche altra puntata di qualche video vi ho detto che era meglio aspettare il bobbinatore che perdesse le torsioni con il power thread questo non c'è vi ricordo che sto lavorando con un 25 denari un filo molto molto sottile a questo punto fatto il nodo prendo e rimuovo il filo di montaggio a questo punto per chiudere bene questa mosca io prendo il dubbing lo tiro un po' indietro così prendo la mia gulf black eccola qua siccome però devo essere molto preciso e con il beccuccio anche con quello in alluminio non lo sarei preferisco metterla un pochino sullo spillo così e andarci piano piano perché altrimenti faccio un macello mi la metto sullo spillo e vado a metterla qui esattamente qui piano piano bisogna aggiungerla piano piano perché lo spazio è poco se vi dovesse andare a finire in questo spazio sull'occhiello lo rimuovete senza alcun problema lo potete fare anche dopo che l'avete catalizzata tanto viene via non c'è nessun problema così anzi facciamo che la leviamo subito così evitiamo il problema non è una parte fondamentale è una parte puramente indicativa da questo punto di vista però è una cosa che lo spottino nero ha sempre il suo perché vi conviene farlo spesso vi conviene farlo in due momenti catalizzate la prima volta allevate eventualmente la la parte che ha tappato l'occhiello perché qua purtroppo con le jig off avete questo problema qui ok ed eventualmente lo rimettete se non avete la colla nera e volete anche fare un lavoro più semplice probabilmente lo potete fare con direttamente con il pennarello nero e sopra della colla normale ecco qui devo dire accendino e andiamo a liberare sempre dalla colla l'occhiello perché altrimenti poi in pesca diventa antipatica la questione ok perfetto questa era la prima che è più uno sfizio dettato dalle jig off piuttosto che la posizione che poi andrà ad assumere all'interno del corso d'acqua e nella bocca del pesce è questa posizione qui riesco a prendere la faccio vedere è questa posizione qui andrà in questa posizione qui come vedete vi ripeto poi le foto domani con il macro ve le vedrete meglio questo per quello che riguarda la prima con le jig off andiamo a vedere la seconda ninfa della quale voglio parlarvi che è una ninfa molto molto semplice anche in questo caso qui ed è una ninfa anche molto pesante proprio per adattarsi alle condizioni di acqua alta ripeto sono ninfe dedicate all'inizio della stagione condizioni di acqua alta io quando utilizzo ninfa particolarmente pesante devono avere una caratteristica fondamentale che è quella di dover necessariamente essere semplici da realizzare perché altrimenti se devo perdere una ninfa che è complicata anche da realizzare allora diventa un problema soprattutto visto i livelli gamma cazzo cf12 bl della misura del 10 quindi un amo group lo vado a posizionare correttamente eccolo qui come vedete esattamente la posizione del amo eccolo qui cosa vado a mettere come testina su quest'amo vado a mettere le javi è una testina molto pesante tungsteno come la metto la javi javi che utilizzerò diverse volte questa sera due volte per l'esattezza vado a mettere la colla che misura era l'amo è fatto una rosita vaporosa non è proprio una rosita però sì l'amo era un aspetta parliamo di questa qua se parliamo di questo qui di adesso è il 12 ma le misure lasciano il tempo che trovano è il 10 di quello di prima era un 12 le misure lasciano il tempo che trovano e soprattutto all'interno della descrizione vi metterò i dressing in cui c'è tutto quanto quindi state molto 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 tranquilli da questo punto di vista quindi non vi lascerò senza ricette gulf gel tende a catalizzare più lentamente rispetto alla colla classica però la preferisco perché secondo me sul con l'acqua tiene meglio il gel quindi ne metto un pochino qui ok e vado a prendere un javi già vi ha questo spacchettino sotto e lo metto qui cerco di metterlo nella maniera migliore per evitare che si formi poi uno scalino sul corpo cosa che in realtà in parte è quasi sempre inevitabile ecco qui ciao flavio ora devo aspettare qualche secondo che resti attaccata la testina intanto aspettiamo questo qua metto via questa roba qua allora il javi come vedete ha queste scanalature che favoriscono il montaggio dell'artificiale con per far fermare il filo di montaggio sulla javi il filo di montaggio che andrò a utilizzare con questa mosca qua in realtà è un filo che metto poi lo tolgo e lo rimetto di nuovo il filo che vado a utilizzare è sto levando un po' di roba se non altro non ci capisco più niente qui è un standard fluo hot orange sempre di textreme quindi un arancione lo vado a mettere qui lo fermo proprio sotto al javi vicino e vado ciao massimiliano vado a bloccare il javi con il filo di montaggio vedete che le scanalature servono proprio a questo a fermarlo ecco qui lo vado a fermare non fa nulla che ci siano dei fili che passano sopra non crea nessun problema vado a bloccarlo intanto il javi sarà vedete cementificato con l'artaggel mi fermo qui e vado a fissare la coda 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 che vado a fare con delle fibre di gallo potete utilizzare anche gallopardo pernice gallina quello che preferite voi il motivo per cui ho scelto il gallo su questo dressing è un motivo molto profondo dovuto a una grande riflessione che ho ottenuto negli anni ovvero che oggi era il primo pelo che ci avevo la prima piuma che ci avevo sul tavolo quando ho preparato i materiali quindi come vedete non è una cosa così fondamentale copro non è un caso che sto lasciando questi residui qui buona te la gabbiere non è più corretto utilizzare un jig anziché un amogrub sì dopo ho fatto utilizzerò con il il javi utilizzerò l'amogrub l'amogig scusa è per dare anche qualche idea diversa è anche un po' questo lo scopo di queste serate cioè far vedere che alcune cose possono essere utilizzate anche con supporti diversi ok solamente per questo qui dopo la prossima la faccio col jig infatti calza meglio sul jig di fatto però come vedi alla fine è abbastanza fattibile la questione arrivato a questo punto qui taglio il filo di montaggio va da sé che non tutti i grub vanno bene per fare questo lavoro devono avere questa parte come il c12 un po' più piatta taglio il filo di montaggio perché vado a realizzare tagliato qua si è sciolto un pezzettino vado a realizzare la prima parte del corpo prima parte del corpo che vado a farlo con il materiale più veloce del mondo per fare questo lavoro qui ovvero l'easydub questo è proprio l'easydub classico vi sconsiglio di mettere tanto easydub con le mani perché tende un po' a sfilacciarsi quindi l'ho detto anche altre volte è preferibile utilizzarlo con il bobinatore in questo caso lo fermo come un qualunque filo di montaggio lo vado a fermare qui sotto vedete così taglio l'eccedenza cerco di eliminare questo scalino e di passare vedete sopra a questo punto mi torna utilissimo tutto quel ruvido che ho creato con la roba che ho lasciato sul gambo ecco perché non era casuale arrivo qui e mi vado a fermare qui come vedete ho già fatto gran parte dell'artificiale a questo punto riprendo il mio filo arancione che ho tolto solamente perché mi dava fastidio e mi dava noia per costruire con questo filo qua ci giro intorno vado a bloccarlo così ok rimuovo l'eccedenza altrimenti avrei dovuto girare attorno all'altro bobinatore diventava una cosa un po' antipatica ripeto se volete rischiare potete anche avvolgerlo con le mani come farò con la seconda parte perché la seconda parte che di fatto è una bianco marrone questa questa mosca la seconda parte che vado a realizzare di questa ninfa è fatta sempre con l'easy tub bianco però questa volta lo vado ad avvolgere con le mani quindi prendo un pezzetto per trovarsi il capo dell'easy tub eccolo qui ok un pezzettino lo vado a fissare in questo caso con il filo di montaggio così qui c'è l'ultimo anello del javi dove mi devo assolutamente fermare altrimenti rischierei di andare giù prendo l'easy tub e lo avvolgo molto semplicemente stando attento perché l'easy tub tende avvolto con le mani a un po' a sfilecciarsi quindi devo essere abbastanza delicato ecco qui ho realizzato anche il contrasto adesso lo vado a fermare così e vado a realizzare lo spottino arancione così come ho realizzato adesso io sto scomodo sto scomodo e sto andando piano per questioni di video ma è una mosca che tranquillamente realizzate in due minuti netti non c'è nessun problema nel farla oppla scusate si è un attimo sminchiato ok faccio un nodo posso usare anche l'annodatore a molla per farlo e metto un po' di colla che in questo caso non metto perché non mi voglio incollare le mani ecco qui molto semplice molto efficace pesantissima perché questo è un javi quindi pesa molto è resistente se volete farla ancora più vaporosa con il lisi tab potete tranquillamente spettinarla un pochettino e fate così stando attenti però ovviamente io non ci ho messo la colla quindi mi leva anche qualche giro di arancione così potete mettere anche della uv al posto della colla vedete lo spettina lo rende un po' più vaporoso e nuota anche un po' di questa è la seconda ninfa vi ripeto vedrete le foto dettagliate poi sui vari social e quant'altro andiamo avanti e andiamo a parlare proprio come parlavamo prima di fare una ninfa con un javi diverso ninfetta e lepre no mi saluti sei il migliore ciao Giovanni a bello già mi piace il nome tuo a bello ciao Giovanni vorrebbe dire ciao a bello no allora ragazzi ninfetta e lepre no vi spiego perché perché sto cercando di far vedere qualcosa che non sono le solite ninfe le solite cose che fate che trovate video e che trovate dressing dappertutto su ogni forma di libro anche io stesso vi propongo delle cose quindi sto cercando anche di far vedere qualcosa di un po' diverso da quello che solitamente vedete in giro altrimenti diciamo che sono uscito dalla comfort zone per dirla tutta quanta la questione allora la ninfa della quale vi vado a parlare adesso è una ninfa che io ho scoperto ho scoperto ho iniziato a utilizzare per i temoli per i temoli perché è una ninfa tipica della tradizione della repubblica cieca non è una check nymph non è una check nymph ma è una una ninfa realizzata per il temolo originariamente ma anche per la trota perché del temolo e della trota perché a inizio stagione le caddis i portasassi sono particolarmente piccoli però ci sono per questo motivo io vado a utilizzare per replicare questo portasassi un un f415 wide gap jig del fasna misura 12 che non vi fate ingannare dalla misura perché come vedete è molto piccino come amo poi potete usare anche misure più piccole sul quale andrò a mettere un jig scusatemi un jig un javi vado a mettere un javi quindi colla ma attenzione perché in questo caso il javi anche meno di colla il javi lo vado a montare al contrario per favorire il profilo un javi ovviamente più piccolo del precedente è un misura S lo vado a mettere al contrario per favorire proprio il profilo del portasassi quindi anziché montarlo normalmente lo vado a mettere così ecco qui devo dargli comunque il tempo di asciugarsi eccolo qui vedete ho messo il javi al contrario con il javi in questa posizione ho se voi immaginate il portasassi ho esattamente la forma del portasassi originario quindi già mi aiuta di per sé e mi aiuterà a farlo lavorare sul fondo per il resto ovviamente qua il discorso che faceva prima l'altro ragazzo che mi sfugge il nome potete farlo anche in dubbing io in questo caso vado a farlo con del materiale veloce prima di tutto andiamo a fare sperando che si sia seccata la colla prima di tutto andiamo a fare il vermicello la larva che esce dall'astuccio quindi la vado a fare con il midgetred di textreme fluo mint quasi un colore share 3 se lo vedete lo vado a mettere qui sotto questa posizione qui lo fermo e rimuovo l'eccedenza ed ecco qui ovviamente adesso devo riempire la testina e riuscire a dare un po' di forma chiamala così per le misure più grandi di questo artificiale potete tranquillamente utilizzare anche il polifloss che sarebbe un po' più grande di questo qui quindi ci mettete meno tempo per i demoli questa vi posso garantire che è veramente micidiale e soprattutto ricordate che all'inizio stagione sono molto piccoli portasassi quindi va molto bene per questa cosa qui ho visto portasassi in giro fatti in maniera veramente esagerata come dimensioni che al punto che mi domando se la data alla fine lo prenda perché lo scambia per uno streamer quindi cerchiamo un attimino anche di essere un po' più ecco forse questa è abbastanza imitativa potrei finirla con il midge thread ma preferisco cambiare il filo di montaggio passo al power thread in questo caso bianco lo fermo così lo vado a fermare e vado ovviamente a intrappolare il midge thread passo sopra così blocco anche ulteriormente il javi e vado esattamente qui sotto per evitare che si srotoli faccio un nodino qui sotto vista la posizione del lamo particolare e so già che il mio filo di montaggio starà qui adesso prendo buonasera leonardo e vado a rimuovere il midge thread che a questo punto non mi servirà più prendo anche quest'altro pezzo di power thread che ovviamente è tutt'altro che simpatico da tagliare a questo punto posso anche ritornare di qua con il fare avanti e di oro in questi giro ho ulteriormente bloccato il javi a questo punto prendo del rame sottile color oro eccolo qui e lo vado a fissare su tutta la lunghezza dell'artificiale poi vi spiegherò il perché così anzi ve lo spiego subito perché altrimenti quando lo attira rischio che viene via che venga via quindi mi darebbe noia questa cosa qua invece così lo fermerò su tutto il corpo dopodiché vado a prendere un altro materiale molto veloce per realizzare questa cosa qui che è il bug wool è un filo filato naturale in questo caso color sand buonasera Giovanni color sand scegliete il colore che più vi si aggrada alla situazione che volete per replicare il portasassi ne prendete un pezzettino molto semplicemente e lo avvolgete sto rimuovendo un pezzettino eccolo qui eccolo anche in questo caso lo fisso tutto dietro qui vado avanti e vado a bloccare bug wool e il rame fino a ovviamente la testina taglio le eccedenze eventuali del bug wool a questo punto prendo il bug wool mi levo il rame di mezzo che mi dà fastidio prendo il bug wool e comincio ad avvolgerlo sul corpo sul corpo fino a che non vado a coprire tutto la larva molto semplicemente non fa nulla se si intravedono dei flash dorati del javi perché tanto andrete poi ad anellarlo con il rame quindi non ha molto senso preoccuparsi se ad esempio ciao vedete se ad esempio si intravedono dei flash dorati sotto va benissimo non c'è nessun problema anche perché alcuni sassolini con i quali i tricotteri poi vanno a realizzare il proprio astuccio sono brillanti come sassolini comunque fatto questo lavoro qui tirate bene il bug wool e lo andate ad annodare ed ho fatto l'astuccetto del portasassi molto semplice se ci sono uscito io che sono in una posizione che è veramente scomoda se potete riuscire tranquillamente anche voi lo fermate e lo tagliate per evitare che si sciolga visto sempre la posizione particolare del jig vado a fare un nodo ecco qui così ho garantito già in realtà potrebbe bastare così per rinforzare ulteriormente vado a fare dei giri con il rame ecco perché vi dicevo non c'è alcun problema se si dovesse intravedere del colore dorato tra un giro e l'altro questo aumenterà anche vedete il profilo del rame ricordo un po' come colore la killer bug di Sawyer non me ne voglia non c'entra niente ovviamente con la lana cedwick sia ben chiaro però colore molto simile faccio un nodo e fine della storia a questo punto rimuovo il rame che non mi serve più rimuovo il filo di montaggio vado a fare la testina dell'artificiale con un semplicissimo univosca qui nella punta dove ho finito con il mid-thread vado a fare la testina nera eccolo qua per dare ancora un po' più di movimento potete anche in questo caso divertirvi a spettinarla un pochino senza esagerare ecco come vedete senza starsi a sbattere più di tanto perché non ne vale veramente la pena avete fatto un portasassi piccolino è semplicissimo utilizzare che preserva a un notevole peso perché guardate ecco lo lascio ovviamente pesa notevolmente ha un profilo corretto del portasassi ovviamente ha uno spot perché in realtà è anche uno spot questo qui e imita benissimo questa storia qua senza zampette senza starsi a sbattere più di tanto che sono ninfe da pesca quindi posso al limite se volete aumentare un po' la movimentazione che dà la ninfa quando sta in acqua potete tranquillamente spettinarla un pochettino potete farlo anche con del dubbing volendo questa storia qua io ho usato questo qua perché è molto veloce e molto resistente terza ninfa mini peeping caddis consigliata per inizio stagione ma sapete che siamo 92 quindi abbiamo un pubblico delle grandi serate buonasera a tutti andiamo avanti una delle ninfe che preferisco quando si tratta di acque velate acque sporche di neve acque in cui c'è uno dei portasassi più semplici e tra le più belle esattamente oh buonasera zio Danco buonasera canna impiega fishon allora purtroppo se usate acronimi o soprannomi non posso sapere chi c'è dietro dicevo una delle ninfe che preferisco quando si tratta di fiumi con acqua da neve mettiamola così è la ninfa con la testina orange ninfa con la testina orange che vado a realizzarvi sempre in maniera un po' alternativa rispetto al solito l'amo che vado a utilizzare giriamo questo intanto è un amo insolito è un amo da blob fondamentalmente quindi da lago è un amo di flybox quindi perché questo amo qui perché è un amo che c'è un bel nervo eccolo qua vedete mi piace molto la forma di quest'amo ricordo un po' vagamente l'f il 444 grado iq come seria molto bello come amo mi piace molto e vado a se riesco a prenderla come al solito a mettere la mia testina orange eccola qua la testina orange testina orange così perfetto a questo punto posso tranquillamente fermare il mio amo lo vado a fermare in questa posizione qua perché mi consentirà agevolmente inizialmente di lavorare nella parte posteriore dell'artificiale a questo punto vado a realizzare l'appesantimento dell'artificiale perché lo voglio ancora più pesante piombino questo è il solito piombino leggermente un po' più grande rispetto a quello che abbiamo utilizzato in precedenza per favorire il profilo conico dell'artificiale prendo delle pinze come avete già visto in altri video queste pinze qui hanno la parte questa qui che è piatta con la parte piatta io vado a schiacciare questa parte qui così e ottengo come vedete vedete una cavolata come immaginate una parte leggermente più piatta anzi forse qualcosa si vede vedete questo già mi aiuta ad ottenere un profilo più conico dell'artificiale a questo punto con le mie ditine tengo la parte questa che ho schiacciato che è comunque un po' più debole e vado ad avvolgere così otterrò un profilo decisamente più conico ecco qui taglio l'eccedenza vedete ho ottenuto già gran parte del profilo dell'artificiale è molto semplice e ho bloccato la testina attenzione che per fare questo lavoro qua ovviamente è preferibile utilizzare testine non slotted quindi svasate e aumentare il peso in questa maniera qui qua c'è chi mette l'attac una volta lo facevo anche io adesso ho solo una perdita inutile vado a realizzare a fermare il filo di montaggio che anche in questo caso è uno standard 8.0 fluo hot orange devo ammettere che questo è un filo che utilizzo molto per la realizzazione delle ninfe lo vado a fermare proprio qui dietro la prima cosa che dovrò fare dopo aver fissato il filo di montaggio è realizzare una base solida su cui andrà a appoggiare il piombo per impedire che poi scivola all'indietro quindi vado a fare un cono qui dietro niente musichetta questa veramente costruisco ecco qui vedete così almeno sono sicuro che non scivolerà dopodiché vado a passare anche nelle spire ecco il motivo per il quale non incollo più il piombo perché comunque vedete mi blocca la testina quindi non ho bisogno di altro perché le spire tenderanno un po' ad allargarsi e mi bloccherà la testina ecco qui non esagerate vedete profilo perfettamente conico mosca già in posizione per essere realizzata correttamente le code le vado a fare con della pernice anche in questo caso lascio libero spazio alla vostra fantasia in questo caso utilizzerò una pernice oliva tinta da me questa dritta che vi do è una pernice che praticamente aveva finito tutte le le piume quelle buone che utilizzo che generalmente stanno in questa parte qui sotto tipo questo e qui ecco questo è buono che uno utilizza per fare i montaggi collarini zampette e quant'altro io con una pernice in disavanzo l'ho buttata nella tintura oliva mentre tingevo dubbing e quant'altro e l'ho fatta diventare oliva l'utilizzo per vari montaggi tra cui le zampe di queste le zampe scusate le code di queste artificiali con zampe in altre circostanze in questo caso vado a fare le code prelevo delle fibre adeguate ovviamente stiamo parlando di un artificiale non anoressico quindi serviranno delle fibre adeguate la vado a fermare in questa posizione qui se dovessi notare che sono troppo lunghe le vado ad accorciare ecco qui manco che niente ok sempre per ciao fabbio sempre per eliminare tutto il resto dello scalino vado a tagliarla proprio nel punto in cui finiva iniziava il piombo guardate praticamente il piombo è completamente scomparso all'interno del corpo della mosca perché questo perché il piombo svasato e il resto hanno fatto la differenza una mosca fatta bene poi alla fine è la somma di tanti piccoli particolari a questo punto vado a realizzare anzi prima vado a fissare l'anellatura che potete fare tranquillamente anche con del rame io in questo caso specifico vado a utilizzare uno dei materiali che preferisco per fare l'anellature negli ultimi anni che è il magic tinsel eccolo qui in questo caso un magic tinsel fluo orange magic tinsel fluo orange che vado a prendere nella misura più piccola lo tiro e lo faccio diventare rounded quindi tondo ecco questo è il normale vedete se lo tirate diventa tondo eccolo qui buonasera manual che tintura usi in questo caso per questa tintura qui ho utilizzato la vignard era la vignard a questo punto prendo il magic tinsel lo fermo dove si possono vedere dopo si il live resterà qui sulla pagina non potete interagire con me ma resterà qui sulla pagina fermate magic tinsel ecco qui il corpo altro materiale molto veloce mohair mohair è un materiale molto veloce che è molto bello volumioso lo vado a questo caso ovviamente è nero vedete com'è sembra del dubbing già intrappolato all'interno del filo anzi la del sembra perché lo è effettivamente rimuovo l'eccedenza anzi l'eccedenza non c'è rimuovo proprio dal bobbinatore dalla bobina prendo questo pezzetto qui e lo vado a fermare non fa nulla se ci sono dei pezzi di fibre tanto lo spettinerò dopo dopodiché qua vi consiglio di cambiare il posizionamento corretto delle codine sulle ninfe è quello parallelo al corpo aspetta un attimino che mi è sparito il commento allora il posizionamento corretto delle codine sulle ninfe è quello parallelo al corpo oppure discendenti verso la curvatura del lamo ma guarda sinceramente è una questione estetica se scendono troppo giù no diciamo io le preferisco in su perché altrimenti bagnate tendono ad attaccarsi troppo al gambo del lamo e quindi per me le codine della ninfa devono anche muoversi un pochettino quindi se stanno troppo aderenti al lamo secondo me si muovono meno perché tendono bagnate ad attaccarsi o ad intrecciarsi quindi se posso le preferisco mettere contrarie ma non è una discriminante eccessiva avvolgo il Moair molto semplicemente prego come vedete ottengo perfettamente un corpo fatto così arrivo qui mi fermo e vado a fermare in frattempo io per rispondere a Luca mi sono dimenticato di cambiare la posizione del lamo che vi avevo detto buonasera Daniele che vi avevo detto di dover spostare comunque poco male mi fermo e rimuovo l'eccedenza a questo punto vado a rimuove a spostare la posizione del lamo così lo metto dritto ok e ci siamo guardate io non sto sfruttando tutto preferisco sempre ammi sovradimensionati prendo il Magic Teens posso avvolgerlo in un verso o nell'altro in questo caso lo avvolgo al contrario ma non c'è un motivo specifico in realtà si infila meglio all'interno delle fibre e lo vado a girare non faccio troppi giri perché aspetta un attimo che attenti non leggo non faccio troppi giri perché altrimenti diventa più arancione che nera questa mosca arrivo qui alla testa mi fermo e come vede ho fatto un'anellatura che vi posso garantire che siccome i riflessi UV riflette tantissimo in acqua adesso lo aspettino un po' chiaramente la mosca riflette tantissimo in acqua e attire pesci in condizioni di acqua velata mosca stratestata in condizioni di acqua nevosa quindi mi prendo la responsabilità di quello che vi sto dicendo un attimo adesso leggo il commento che avete fatto io devo levare prima di una roba se no per un po' comincio ad avere problemi ora un attimino che leggo il commento l'ultimo commento che è arrivato se no diventa solamente consigli questo montaggio anche su misure più piccole assolutamente sì però in generale non andate sotto questa è un 10 io questa la utilizzo fino al 14 non oltre perché altrimenti diventa priva di senso come cosa ecco qui chiudete qui dopodiché vedete faccio questo lavoro qui adesso vado a fare il dubbing in asola come prima anche in questo caso posso fare due cose o lo spacco o lo doppio in questo caso voglio doppiarlo così vi faccio vedere la differenza di quello che esce fuori quindi prendo il filo ditino sul filo lo vado a allungare lo fermo come vedete lascio qui faccio due giri la cosa più importante è che poi vado a chiudere questa asola così chiudo l'asola faccio due tre giri altrimenti poi riesce tutto quanto e mi fermo qui dietro ho la mia asola a questo punto prendo lo strumento apposito per farlo prendo la cera e la vado ad applicare nella mia asola il botto che avete sentito era la lampada UV il dubbing che vado a mettere è sempre cap dubbing in questo caso è il magic green questo qui questo qui a questo punto prendo il dubbing lo inserisco all'interno come avrei fatto con qualunque altro materiale e lascio a questo punto il filo trattengo un pochettino questo lo rallenta un po' a mo' di frizione ovviamente non sto lavorando con del power thread quindi dovrei stare un po' più cauto con le trazioni ecco fatto vedete ho fatto questa cosa qua per spettinare maggiormente il mio filo sempre con del velcro che come state utilizzando come state notando io utilizzo molto spesso da questo video penso che sia vinca che nel video iniziamo a costruire le ninfe non vi ho detto poi tante cavolate che sto utilizzando i materiali che vi ho detto nel video vado a avvolgere vorrei utilizzare qualunque altro strumento adesso vado a fare questo qui tanto devo fare due giri ad avvolgere il dubbing eccolo qui lo pettino un po' all'indietro vedete come resta più vaporoso ecco qui e lo vado a fermare qui faccio scivolare all'interno il filo di montaggio rimuovo ovviamente il filo arancione in eccesso faccio dei giri e lo vado a chiudere ok potete mettere sempre colla che io sempre per questioni logistiche da scavitare nei video lo spettino così sbibbo un pochettino ecco qui come vedete ho ottenuto una bella ninfetta vaporosa con un collarino di dubbing molto semplice e anche il corpo è molto vaporoso quindi è una ninfa che si muove bene e mi continuo a litigare con l'arancione che mi fuoriesce da tutte le parti qui ma sono malatoio su queste cose ok e ho una ninfa bella vaporosa questa è una ninfa che ripeto su acque da neve è una garanzia nera oliva con riflessi orange molto bella ve lo dico da solo veramente bravo 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 momento eccolo qua questo è il codice che potete utilizzare su textreme punto it per avere il 15% di sconto quindi questo è il codice che potete utilizzare su tutti i prodotti a marchio textreme e marchio fasna verrà scontato automaticamente dall'interno del carrello quindi non è che vi cambia il prezzo ma ve ne accorgerete poi alla fine che ve l'ha cambiato quindi mettete questo codice nel carrello e vi cambia il prezzo prodotti a marchio textreme e marchio fasna non tutto il carrello solamente su questi prodotti qua qualunque tipologia di prodotto importante è che abbiano queste due marche attenzione perché questo codice non lo trovate qui sotto nei commenti o nella descrizione ma vale fino a domenica alle 24 quindi questo weekend altrimenti non vale più e non funzionerà più è inutile che ci provate lunedì è un codice per l'apertura 15% di sconto detto questo andiamo avanti con la costruzione stasera mi farò compagnia per un po' abbiamo già superato un'ora quella che vi faccio vedere adesso è una ninfa un po' strana io l'ho chiamata dropperdicon è una ninfa anche un po' antipatica per certi aspetti da realizzare perché vado a utilizzare il drops se riesco a tirar fuori un amo innanzitutto cominciamo col dire famola strana si innanzitutto cominciamo col dire che l'amo che vado a utilizzare è un amoflite box competition barbless della misura 12 quindi un amo dritto lo faccio vedere così eccolo qua è un amo dritto su quest'amo dritto vado a mettere i drops che per chi non lo dovesse sapere sono queste goccioline in tungsteno misura 3,5 mm di textreme ripeto sto facendo vedere cose che magari soprattutto per chi si avvicina adesso alla ninfa soprattutto per chi magari è un po' monotematico sulle ninfe sono cose abbastanza nuove prendo il drops come vedete il drops ha un vedete è una parola grossa però ha un svaso uno spacco per essere infilato su questa tecnologia di ami lo prendo lo infilo non c'entro più il buco come una volta ecco qua eccolo qui e come vedete con il drops io ho ottenuto già vado ad affermare sul morsetto così ci capiamo ho ottenuto già ecco qua adesso lo vado a incollare che altrimenti non ho ottenuto un bel niente lo incollo queste testine qua che camminano vanno è un consiglio che vedo è quello di incollarle sempre perché altrimenti mi danno mi fanno diventare pazzi queste sì purtroppo sì le vado a mettere giù eccolo qui con lo svaso nella parte inferiore così aspettate un paio di minutini vedete già di per sé con questo tipo di testina io ottengo il profilo dell'artificiale qual è il problema però di queste testine è qua che se vado ad utilizzare un materiale particolarmente liscio come il filo di montaggio mi scivola sistematicamente tutto all'indietro quindi qua avete due alternative o utilizzate del dubbing o del filato come quello che ho utilizzato prima io quindi ad esempio il bag wool lo mettete qui e quindi girandolo sopra vi da una mano nel riempire e nell'appoggiarsi l'uno sopra l'altro e nel farsi forza oppure potete ricorrere a del materiale adesivo come il synthetic biot che aderisce perfettamente e impedisce al materiale di scivolare su se stesso perché dovreste dire perché me devo complicare la vita così perché questo è tungsteno e vi posso garantire che pesa decisamente filo di montaggio filo di montaggio in questo caso è sempre il techstream powertread 25 denari quindi il micro bianco eccolo qui ripeto ormai questo filo ha scalzato tanti altri fili perché è un filo un po' universale come vedete è veramente sottile e difficilmente lo vedete rompersi adesso si rompe vengo smentito sistematicamente subito allora lo fermo qui vedremo che il filo di montaggio lo andrò a utilizzare solamente in questa parte qui perché dopo lavorerò senza filo coda coda che vado a fare con un gallo cotto io ma poi ripeto potete utilizzare la gallina e tutto quanto eccetera mi piaceva questo colore qua che è un golden olive non serve una coda particolarmente lunga per questo vedete queste fibre abbastanza corte che tirerò al limite della loro lunghezza eccolo qua le metto qui vedete e le vado a fermare così fantastico io sono in diretta su youtube e mi arrivano i commenti su facebook nonostante abbia detto 500 volte che ero in diretta ok a questo punto vado a prendere il synthetic biot light olive light olive anche in questo caso qui come vedete questo chiaramente ha un colore diverso ma il principio è lo stesso è adesivo e ha una sottile riga da un lato lo attacco qui così stringo ok e vado a rimuovere l'altra parte d'altra eccedenza a questo punto vado a infoltire la parte posteriore di spezzire la parte posteriore qui dove finisce il drop per eliminare sempre comunque un minimo scalino che si forma purtroppo da questo punto di vista poi il power thread non vi aiuta perché il power thread è molto sottile come filo quindi dovete riempire parecchio fatto questo lavoro qui vado a fare un nodino e vado completamente a rimuovere il filo di montaggio sarebbe completamente inutile adesso lavorare con filo di montaggio vedete che adesso la posizione del drop è corretta sarebbe completamente inutile perché dovrei fare 2000 giri per coprire completamente tutto quanto a questo punto cosa vado a fare vado a potete fare due cose o ci mettete una cosa che voglio dirvi sul synthetic biot innanzitutto che essendo semi trasparente ovviamente conta il colore che io metto sotto del filo quindi la scelta del chiaro è questo il motivo secondo voi qua potete fare due cose essendo trasparente vi consentirebbe anche di mettere un po' di colla UV il resino UV e catalizzarlo dopo io preferisco in questo caso mettere un po' di cianacrilica quindi gel questo qui e fare così ne metto un goccettino e la vado a spalmare così in maniera che tutto il drop sia cosparso di colla cianacrilica a questo punto ho fatto questo qui non mi resta che prendere il batfish si può anche fare volendo prendo il synthetic biot e lo tiro un pochettino tirandolo lo assottiglio e riesco a far diventare diversa la parte dietro e lo comincio ad avvolgere attenzione perché poi una volta che io entro sul corpo del drop diventa molto più complicata la questione mi fermo qui dove praticamente inizia la testina vedete come sono arrivato qui l'ho realizzato molto brillante a questo punto prendo la colla ambulance la resina ambulance la apro che l'avrei dovuto far prima ma io non sono mai per le cose facili prendo una puntina di ambulance e la vado a mettere qui sopra questo adesso serve solamente per farmi fermare adesso voi non lo vedete perché è andato fuori fuoco serve per far fermare il synthetic biot anche se c'è la colla sotto adesso posso lasciare come vedete ho ottenuto il profilo di un perdicon di fatto vedete se riesco a farvelo vedere eccolo qui adesso vado a rinforzare chiaramente quello spottino vado a rimuovere con le forbici più sottili il synthetic biot ecco qui non ho bisogno di andare particolarmente a rinforzare il corpo perché già è forte di suo con l'attac sotto e l'adesivo è un materiale resistente prendo il altraresino e vado a fare per bene lo spottino spottino che lo faccio arancione per creare un contrasto visto che non ho il filo arancione e quant'altro vado a farlo con la colla potete farlo tranquillamente anche con la colla nera potete fare qualunque cosa vogliate voi ecco qui io come vedete in queste circostanze ho bisogno di lavorare sempre un po' con lo spillo piuttosto che star lì a rischiare di rovinare tutto una volta messa lì ovviamente catalizzo vi ripeto si vede poco perché si vede poco però è una mosca semi trasparente anellata vi posso garantire che funziona veramente tanto tanto bene io ci ho messo un po' a farla perché per questioni di video ma ci vogliono veramente due secondi tra l'altro il fatto di non mettere colla space gap il fatto di non mettere colla sul corpo la rende come vedete ruvida motivo per il quale molti hanno chiesto perché questo materiale qua è stato chiamato è stato chiamato synthetic biot non quill ve lo spiego subito perché perché se uno lo sovrappone come ho fatto io in questo caso qui ottiene delle venature rigate rubidità che sono tipiche del biot ecco qui se voi poteste toccare questa mosca qua sentireste che è rubida ma si vede anche la ruidità che fa il corpo quindi questo è molto semplice molto resistente è un'oliva chiaro con uno spottino arancione con un drop infatti come vedete molto molto pesante potete anche cambiare dimensioni e tutto quanto ripeto troverete le foto poi andiamo avanti perché sono un non stop adesso vado a fare una mosca che a qualcuno non piacerà però è una mosca che io ho nel cuore da sempre ho nel cuore da sempre perché è una mosca eternamente sottovalutata è una mosca che questa diciamo è più a beneficio dei dei newbie piuttosto che dei anzianotti che la conoscono sicuramente è una mosca che ingiustamente viene depauperata del suo valore ontologico allora scherzi a parte sto prendendo perché sto mettendo via un po' di roba altrimenti diventa un macello sto parlando del San Juan Warm allora il San Juan Warm è una mosca che non deve a mio giudizio mai 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 mancare nelle scatole quando iniziate a costruire le mosche e quando soprattutto trovate i fiumi all'inizio stagione in condizioni più complicate su quale amo lo vado a fare lo vado a fare sul gamagazzo c12 fbl del 10 e tu dici perché mi fai vedere un San Juan allora innanzitutto voglio dire una cosa il San Juan viene visto come da alcuni come una pesca col verme no assolutamente no farei una live sui baitfish swing bait sì ma sugli streamer quindi teoricamente sì ci stavo pensando oggi quindi sì avevo risposto già prima a questa cosa sì dobbiamo organizzarla la farò sicuramente allora perché la faccio perché vi faccio vedere come lo faccio io il San Juan che sicuramente non è niente di complicato però allora l'amo abbiamo visto perde il 10 che ciniglia suede ciniglie red colore rosso allora come lo vado a fare lo vado a fare in questa maniera qua innanzitutto filo di montaggio sempre orange che è diventato un po' il light motive della serata fermo il filo di montaggio ce ne stanno mille e una variante e non c'è nulla da ma dipende ci sono anche più piccoli ce la fanno anche ci sono anche delle ciniglie più sottili per fare i micro San Juan vermicelli che sono molto efficaci per pescare i temoli quando li becchi sotto arriva a vista il San Juan non è un verme o meglio anche fosse un verme è un verme che è presente in natura quindi al pari del portasassi eccetera sono vermi di quale si nutre di pesce poi a volte scaturisce l'istinto predatorio è normale che le aggredisce come lo vado a fare lo vado a fare in questa maniera qui allora innanzitutto vado a fermare sul lamo il magic tinsel rosso questa è un'aggiunta potete mettere anche tranquillamente del rame intattone che mi spengo che sto costruendo ok allora dicevamo torniamo al nostro vermiciattolo eccolo qua sui dei cenigli ne taglio un pezzettino così poi magari la accorcerò dopo ulteriormente se dovessi essere troppo lunga eccola qui vi sconsiglio utilizzare altre ceniglie la ceniglia per fare il San Juan e per fare questa tipologia di vermi deve essere tonda così deve essere così se è piatta esistono altre ceniglie piatte non va bene non va bene e questa è la misura generica la parola San Juan che io scherzosamente chiamo San Giovanni deriva dal fiume in cui è nata questa cosa qua che è un fiume nel West USA che si chiama San Juan River quindi per me resterà sempre il San Giovanni che ci risolve tante situazioni soprattutto quando l'acqua è veramente sporca come lo faccio io questo è il capo del San Giovanni della ceniglia accendino l'assottiglio ma non è che l'assottiglio solamente per dare la forma del verme l'assottiglio perché vado ad infilare la testina all'interno della ceniglia ecco qua così infilata qui dentro lo vado a fermare voi direte qual è il vantaggio beh il vantaggio è lo stesso delle altre mosche di avere un San Juan che mi lavora reverse eccolo qui lascio intatto il gap del lamo la mosca mi la va a lavorare così anche nella bocca del pesce è indipendente la ceniglia è molto resistente quindi non c'è il rischio di perdere questa cosa qua e l'amo è libero quindi posso anche lasciarla più libera disco di insolare facendo così volendo però io in questo caso la preferisco aderente così faccio questo lavoro qui passo oltre con il filo di montaggio e arrivo qui davanti dopodiché prendo il magic tinsel lo avvolgo e vado a fermare la sedia ceniglia dietro perché davanti li passo sotto e vado a rinforzarlo così ci passo proprio sotto così perché gli voglio dare comunque dei punti luce perché bagnato avrà dei riflessi molto particolari tra l'altro se parliamo proprio di vermi molti vermi tra cui il vermacciolo il lombrico presentano questo rigonfiamento particolare è anche abbastanza imitativo non sto cercando di giustificare il Sun One sto cercando semplicemente di farvi capire che è una cosa presente in natura come in tanti altri che tante seghe che ci facciamo sul Sun One sono seghe del tutto italiche perché nella scatola degli americani non mancano i Sun One posso garantirvelo poi dire che lo utilizzo in continuazione è una falsità dire che lo utilizzo qualche volta precisa nell'anno è assolutamente vero e non mi vergogno a dirlo fatto questo prendo la parte frontale della ciniglia lo metto qui potete anche intrappolare poi il Sun One con il Magic Tinsel qui come fate voi lo alzo qui davanti e lo fermo boccino di attack qua ve lo consiglio sempre vado a chiudere la mosca ecco qui e rimuo il filo di montaggio a questo punto devo sistemare il Sun One e non farlo troppo lungo ovviamente quindi qui davanti lo vado ad accorciare un pochettino di più qui dietro anche lo vado ad accorciare un pochettino di più prendo l'accendino e brucio tutta la mosca e lo vado a sfumare così ecco qui eccolo qui a me piace a me non interessa quello che poi si pensa sulle cose eccetera anche perché chi fa la morale poi sono sempre i primi a infrangere le regole della morale quindi non mi interessa questa cosa qua non mi sono mai interessate questo tipo di oggetti colemiche non vedo perché comunque se voi scavate sul bordo del fiume è pieno di questi vermicelli rossi soprattutto quando piove sono cose che finiscono inevitabilmente nella bocca dei pesci tra l'altro è molto efficace anche per i barbie questa ninfa è molto efficace anche per le carpe quindi god bless the sound one ecco qui sound one warm molto molto semplice immancabile l'ultima dopo di che vi mando a dormire è un artificiale comunque che poi che morale se cattura cattura no questo qua guarda sul fatto che cattura il sound one non è che lo scopro di sicuro io non sono io l'inventore del sound one questo è il modo in cui lo faccio io ma ce ne sanno 10.000 di video anche costruttori molto più bravi di me che vi fanno vedere come fanno il sound one l'ultima mosca che vi faccio vedere questa sera è una mosca un po' particolare perché torno a costruire sull'amo utilizzato in precedenza scendo di misura però in questo caso è sempre il wide gape jig amo a gambo corto jig piccolino vado a fare una ninfa sempre votata all'attenzione che uno deve avere per pescare corsi d'acqua con acqua da neve la mosca migliore è quella in acqua e su questo non lo metto assolutamente in dubbio sono assolutamente accorso sono contento che vedo che non sono il solo a pensarla così però vi posso garantire che purtroppo di estremisti ce ne sono fin troppi cosa vado a mettere su questa cosa qua sempre nell'ottica di farvi vedere qualcosa di un po' diverso anche perché altrimenti non avrebbero senso queste serate se dovessi fare cose che voi già sapete ho utilizzato delle testine che vengono utilizzate poco che sono le metallic red ovvero le testine rosse che funzionano con queste condizioni di acqua non sono le mie testine preferite lo ammetto non sono quelle che mi hanno cambiato l'esito delle mie pescate ci sentono i puritani che ammazzano a me dei puritani non interessa nulla però ci sono stati dei momenti che benedetto quel momento in cui l'ho montato purtroppo non sapremo mai se in quel momento avessi montato un'altra cosa se sarebbe andata bene uguale però la testina rossa ho cominciato a prendere fiducia in quei momenti quindi eccola qua allora perché vi sto facendo vedere questa roba qua perché vi sto facendo vedere come su quest'amo apparentemente piccolino perché guardate quanto è piccolo quest'amo io sto utilizzando una testina esagerata che però mi va a preservare comunque il gap del jig e quindi non diventa compromessa la tenuta in pesca del lamo questa qua è una ninfa ugualmente che funziona molto sui temoli cambiando chiaramente colore cambiando testina e tutto quanto funziona molto bene sui temoli e vi invito a provarla che filo di montaggio vado a utilizzare su quest'ativo di destina qua vado a utilizzare il power thread bianco quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista qui vado a fermarmi qui anche in questo caso potreste incollarla la testina ma io onestamente se sono proprio sincero non perdo più tempo nemmeno a incollarle fermo la testina qui chiaramente deve stare molto attenti a che il filo di montaggio si tocca in continuazione sulla punta del lamo prima o poi vi abbandona ninfa attrattiva motivo per il quale vado a realizzare lo spottino in coda con il crystal flash pearl orange piccolo materiale più utilizzato per gli streamer che non per le ninfe eppure eppure eccolo qui lo metto qui lo fermo e vado a rimuovere l'eccedenza così questo mi darà come vedete dei riflessi particolari in coda allo spot ecco qui fatto questo io rovo la curvatura al limite della curvatura fermo e prendo il materiale che utilizzo che ho utilizzato prima ovvero il magic tinsel red eccolo qui guardate con gli stessi materiali quante ninfe diverse sto facendo proprio per farvi capire che lo scopo non è farvi vedere 500 materiali diverse ma per farvi vedere quanti materiali possono essere replicabili per utilizzare su diversi dressing lo vado a fermare torno indietro verso la curvatura qui io vedete faccio sempre questo movimento per capire quando andrò a girare dove mi partirà il primo giro faccio qui a questo punto qua potete cercare anche un pochettino di inspessire un po' il corpicino perché altrimenti viene veramente troppo piatto quindi soprattutto in questa parte qui cercate di dare una conicità minima all'artificiale anche perché se l'ho ingrandito un pochettino vi ripeto a questo punto di vista non vi aiuta molto il filo molto sottile però nel bilancio tra bene e male preferisco sempre un filo più sottile mi fermo qui ok questo punto inizio ad avvolgerlo lo avvolgo ovviamente aspire strette uno attaccato all'altro così arrivo fino a qui faccio un giro di troppo perché vado a bloccare come vedete la testina con il magic tinsel così mi fermo e lo vado a bloccare qua vedete molto piccina se no dire che vi faccio vedere solo mosche grandi ho strizzato anche un po' l'occhio a parecchie mosche a un paio di mosche a temole come quella che abbiamo fatto prima vado a togliere la roba di mezzo ok fatto questo vado a bloccare completamente il magic tinsel e la testina che a questo punto vedete è diventata immobile non mi dà più alcun problema e vado a fare il torace con un po' di dubbing che darà comunque del movimento perché tutto sommato abbiamo creato flash adesso quello che dobbiamo creare è un minimo di movimento su queste artificiali qua per me le mosche in queste condizioni devono avere due caratteristiche fondamentali avere un po' di flash e avere un po' di movimento si devono vedere e muovere dentro l'acqua perché il pesce deve essere a tratto come lo vado a realizzare questo movimento lo vado a realizzare con del cap dubbing in questo caso rusty brown eccolo qui quindi prendo proprio un velo metto un po' di cera qualcuno mi chiedeva se era buono l'attacca al posto della cera assolutamente no magari qualcuno faranno sorridere queste domande però ricordiamoci tutti che quando abbiamo iniziato a costruire tante cose non le avevamo nemmeno noi vedete qui intuzzate non mi ricordo che aveva questo termine intuzzare un pochettino e vedete se è troppo se è troppo lo levate diciamo che ci stiamo questo lo possiamo levare ecco qui tra l'altro questo dubbing può anche eliminare un po' di eccessiva differenza che c'è nella sagoma rispetto alla testina che comunque rimane tra virgolette sproporzionata ma rimane una testina molto efficace ecco qui sempre se volete mettere un goccino di attack poi sotto non guasta mai e ci siamo questa è la short bloody nymph come la troverete chiamata poi troverete i nomi anche i dressing delle varie nymphie che vi ho fatto vedere eccolo qua ci sto provando tutta la maniera a farvela vedere vi ripeto ci sarà il macro domani lo vedete molto bene eccolo qui la mattina vi passerò macro e tutto quanto il video sarà rivedibile su youtube solamente che ve lo dico youtube si prende un certo tempo per elaborarlo quindi prima di domani secondo me non lo vedete anche perché siamo con ore e quaranta e quindi ci metterà un bel po' per rielaborare il video youtube allora eccoci qua ci siamo fatti questa sessione intensiva di un'ora e quaranta ormai di costruzione dicevamoci dieci minuti che abbiamo chiacchierato all'inizio quindi un'ora e trenta di costruzione spero di avervi dato degli spunti interessanti per poter costruire un po' di nymphie e per avere un maggiore know-how quando andate al morsetto per costruire un'infe con queste condizioni di acqua che potreste trovare ovviamente è impossibile dare una definizione a tutte le acque che potete trovare però insomma immagino che la situazione in Italia visto che ha nevicato abbastanza quest'inverno e si sono alzate anche un po' le temperature è plausibile che all'interno del corso d'acqua ci sia un po' di neve e non sempre siano l'impede questo che è forse a specchio ma è cap live 01 adesso vi rigiro un attimo dovresti essere a specchio vi rigiro la schermata e ve lo faccio vedere dall'altra parte eccolo qua cap live 01 questo è il codice sconto che dovete applicare al carrello su www.textreme.it con il codice sconto cap live 01 avrete la possibilità di avere il 15% di sconto su tutti i materiali marchio textreme e fasna direttamente nel carrello se avete comunque domande su come utilizzarlo potete scrivere a textreme potete scrivere a me questo che vi pare a voi e anche qui sotto nei commenti e vi spiegherò meglio come funziona vi ringrazio vi ricordo che questo sconto attenzione vale fino a domenica alle 24 quindi da adesso che chiudo la diretta fino a domenica alle 24 questa diretta resterà grazie a voi della compagnia grazie a voi della pazienza nel costruire le mosche nel vedermi e anche nonostante abbastanza scomodo a lavorare vi do appuntamento a chi ci incontreremo sul fiume a pesca alla prossima live vi ricordo che adesso ho lanciato una nuova cosa che sono i blog quindi vi parlerò gradualmente di cose in maniera molto più informale come avete visto quello di ieri magari anche con una qualità migliore di quello di ieri vi parlerò di varie cose quando ricevo dei pacchi faccio vedere di cosa si tratta delle novità insomma un po' di cose che riguardano il mondo della pesca mosca tra cui alcune cose che possono tornarvi veramente utili questo video resta qui la descrizione dei testing e le recette complete lo trovate qui sotto nei commenti se non vi siete iscritti al canale vi prego fortemente iscrivetevi se avete messo un like è molto gratuito vi ringrazio per tutto quanto sei nella cameretta si sono sempre nella cameretta io dove costruisco niente che dire vi saluto vi ringrazio mi raccomando andate a pesca fatelo nel rispetto dei pesci perché in alcuni corsi d'acqua potrebbero non essere ancora completamente finite le operazioni di frega da parte dei pesci viste le temperature quindi cercate di non camminare sui letti di frega di non incidare i pesci in evidente stato di frega soprattutto liberate i pesci perché stiamo nel 2021 non c'è bisogno di ammazzare una fario nostrana per poter andare a mangiare andate al supermercato e ve le comprate ok detto questo buonanotte a tutti quanti vi auguro la migliore stagione possibile non come buona pesca ma vi auguro sinceramente che possa essere una buona cosa quella di staccare un po' il cervello da tutti i problemi che abbiamo e andare un po' a pesca ci vediamo sul fiume basta costruire costruite un po' ma andate soprattutto tanto a pesca buonanotte a tutti quanti che ci vediamo a tutti quanti ci vediamo a tutti quanti che ci vediamo